Parte oggi il mini-tour di proiezione del docufilm Una strage ignorata, promosso dalla Fondazione Argentina Altobelli. In Sicilia, tra il 1944 e il 1948, sono stati uccisi decini di braccianti e sindacalisti agricoli che lottavano per dare ai contadini le terre incolte dei feudi, così come previsto dai degreti Gullo del 1944. Fu una vera e propria strage che si consumò prima e dopo Portella della Ginestra, una pagina tragica e buia della storia del nostro paese. A queste vicende la Fondazione Argentina Altobelli ha dedicato una ricostruzione storica del libro Una strage ignorata e ha realizzato un video-racconto attraverso la voce dei parenti di questi sindacalisti e lanciato il concorso Portella. I braccianti, la memoria rivolta agli studenti degli istituti superiori per l'agricoltura della Sicilia. In Sicilia, tra il 1944 e il 1948, sono stati uccisi circa, non si sa bene nemmeno il numero, 50 braccianti e sindacalisti agricoli che lottavano per l'applicazione dei decreti Gullo e per la concessione della terra ai contadini riuniti in cooperativa. È una storia di cui pochi sanno qualche cosa. Si sa tanto di Portella della Ginestra, si sa molto poco di questi 50 sindacalisti uccisi in meno di 4 anni. E perché è importante quindi ricordarli? Perché queste persone hanno contribuito molto a ridare fiducia ai siciliani a lottare per la terra, per l'ottenimento della terra, tanto che poi si è arrivati alla riforma agraria e questi contadini hanno vinto, la terra è stata data ai contadini, ma c'è voluto il sangue di oltre 50 persone. Oggi la proiezione di un ondocofilm proprio raccontato dalla voce dei parenti. Antonella Zoti, lei è la figlia di uno dei sindacalisti uccisi. Perfettamente. Oggi è una giornata importante per questi ragazzi di Partinico in particolare perché si staranno alla proiezione di questo documento che fa conoscere ai ragazzi come anche Partinico abbia partecipato al movimento contadino e ha pagato con la morte di concittadini questa lotta, una lotta contro il sistema latifondista che era un sistema parassitario basato sullo sfruttamento dei contadini che erano condannati alla retratezza, schiacciati dalle tasse, dai debiti, dai sopruso e dalla violenza. Quindi questo documentario fa capire loro una parte di storia che allora non è assolutamente lontana, anzi. Qual è il ricordo più bello che lei ha di suo padre? Io non ho molti ricordi di papà perché avevo solo 4 anni e mezzo quando papà è stato ucciso, però da quella notte i miei ricordi sono molto molto vividi, parlo della notte dell'omicidio ed è come se io avessi in quel momento tesorizzato tutte le immagini che di lui mi restavano dolci. Ricordo per esempio che papà mi strusciava a volte la sua barba contro le mie guancette e poi mi consolava perché mi dava un po' di fastidio e poi mi consolava abbracciandomi e baciandomi oppure quando mi palleggiava sopra il banco da lavoro che lui era un ebanista e quando una volta mi mise sulle sue spallucce, sulle sue spalle ed io ero felice di questo posto così in alto che mi faceva dominare alla folla, era la processione di Santa Fortunata a Baucina. E poi ricordo quella notte che è il primo atto di una tragedia che non ha mai fine nella mia vita perché oltre alla mancanza di papà c'è stata anche la mancanza del ricordo e della memoria e quindi una sofferenza continua. Perciò dico che ogni memoriale, e oggi questo è uno di quelli, sono molto preziosi e fanno rivivere e ridanno alle vittime il diritto alla memoria che viene riconosciuto da chi lo condivide. Signor Loiacono, anche suo padre oggi è impresso nella memoria di questo docufilm. Chi era suo padre? Il mio papà era una persona che un lavoratore e aiutava la Camera del Lavoro a quegli bisogni che c'erano per aiutare sempre la grassa operaia e le persone che avevano dei bisogni perché naturalmente mi pare giusto che dava... Dava voce ai più deboli. Certo, certo, certo. Hai stato ucciso quando? Il 22 giugno del 1947 assieme a Giuseppe Casarrubea. Qui a Partinico? Sì, costo dei mille. Comunque è una cosa praticamente che non dovrebbe succedere. Purtroppo è capitato mio padre. E noi siamo rimasti orfani di padre, cinque figli. Il più grande io, dieci anni. Perciò si figura un po' di quello che poteva fare. Nel 22 giugno del 1947 c'era quello che c'era, subito dopo la guerra e le cose andavano male, malissimo. E si soffriva anche, diciamo così, di fame. Perché i tempi erano questi. Quindi è importante far conoscere alla nuova generazione queste... Anche nelle scuole. Non fosse buono fare conoscere la nuova generazione, ma sempre noi l'abbiamo ribadito questa situazione, in modo tale che è una cosa che negli anni si ricorderanno sempre anche i giovani nelle scuole. Si tratta di un documentario che racconta la vicenda dei sindacalisti uccisi alla mafia in Sicilia tra il 1944 e il 1948. È una vicenda raccontata attraverso la viva voce dei familiari, figli, nipoti, che raccontano di una Sicilia povera, una Sicilia misera, di uno scontro aperto tra la mafia da una parte e dall'altra gli uomini del movimento contadino, che ha lasciato sul campo personaggi straordinari come Placido Rizzotto, come Accursio Miraglio, come Epifanio Lipuma. E qui a Partinico in particolare volevamo ricordare le figure di Giuseppe Casarrubbia e di Vincenzo Loiacono, che furono uccisi il 22 giugno del 1947. Quindi è un documentario che serve a fare memoria, a non dimenticare pagine importanti della nostra storia, per guardare avanti con più fiducia. E allora, siamo qui a ricordare tante persone che hanno perso la loro vita per difendere il panne ripubreggio. Tra questi, Turidio Carnevale, che è stato ucciso nel 55 Sciara. E oggi siamo qua per ricordarli, per ricordare anche Giuseppe Casarrubbia, il cui padre è stato ucciso davanti alla Camera del Lavoro. E io ero piccolina, mi ricordo di questi episodi, ma soprattutto mi ricordo che la figura di Giuliano, che poi è stato l'artefice anche della strage di Portella delle Ginestre, mandato però, mandato, e sappiamo anche da chi è stato mandato, non veniva vissuto come una figura di Giuliano. Io me la ricordo che veniva enfatizzata, che si era creato un alone, come se fosse un eroe. E' lo stesso atteggiamento che si aveva nei confronti della mafia, che la mafia era anche questa idealizzata. Ma la realtà è un'altra, che la gente è morta, e che questi erano delinquenti, cominciando da Giuliano, che seppur aveva iniziato per un motivo valido, e poi alla fine è diventato un delinquente comune, che si meritava, che si merita, no, la morte che ha fatto assolutamente no. Dico, di cui non bisogna idealizzare, ma bisogna dire che è stato anche lui l'artefice di tante morti. Quello è stato un periodo in cui in Sicilia si è svolta la lotta per la terra, come noi stiamo vedendo anche questa mattina dalle film che stanno proiettando. In quella lotta molti sindacalisti hanno perso la vita per iniziare da Placido Rizzotto a Corleone, Salvatore Carnevale a Sciara, e tante altre anche in provincia di Palermo, in provincia di Grigento e anche a Sciacca. In quel periodo lottavano per la spartizione del prodotto fra i datori di lavoro, fra i padroni, si diceva allora, e i lavoratori. Ora, quello era un periodo in cui questo fatto rivoluzionario non era compreso appieno e quindi in alcune situazioni i sindacalisti venivano uccise per opera della mafia. Poi le lotte sindacali e contadine non ci sono mai fermate perché sono un'evoluzione di quei tempi.